Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio della serie dedicata ai miei investimenti, nella quale riporto tutti i miei investimenti mese dopo mese. In questo episodio mi concentrerò sugli investimenti di ottobre 2020. Perciò, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e se vi siete persi, gli scorsi episodi li potete trovare in una playlist dedicata all'interno del mio canale. Un bel like al video e iniziamo subito. Questo mese ci sono stati un sacco di nuovi investimenti. Ho investito in una nuova azione, ho investito tantissimo nel canale, come potete vedere, e ho investito anche in strumenti che mi permettono di ottenere un cash flow mensile. Partiamo dal portafoglio azionario. Lo standard seppur questo mese è iniziato con un valore di 3.300 per finire a 3.300. A metà ottobre si è raggiunto un nuovo massimo relativo e poi i prezzi delle azioni sono praticamente crollati l'ultima settimana di ottobre. Sinceramente credo che siamo in una fase molto delicata perché il coronavirus si sta diffondendo fortemente in tutto il pianeta e non sappiamo bene come questo influenzerà le economie. Perciò dobbiamo fare molta attenzione se abbiamo intenzione di investire adesso, soprattutto in determinati settori che potrebbero soffrire parecchio. Inoltre a inizio novembre ci saranno anche le elezioni americane che influenzeranno fortemente i mercati. Nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare molto radicalmente. Facciamo attenzione ai mesi di novembre, dicembre e anche gennaio. Per quanto riguarda il mio portafoglio azionario vi parlo subito del nuovo investimento che ho effettuato. Ho acquistato delle azioni di Realty Income, società che si occupa di investimenti immobiliari negli Stati Uniti e in altri stati americani e sudamericani. Di questo investimento parlerò approfonditamente in un prossimo mio video. Ho investito 2.500 euro per acquistare 48 azioni di Realty Income e questa società distribuisce dividendi dal 1994. Inoltre fa parte delle dividend aristocrats e distribuisce un dividendo mensile. Mese dopo mese otterrò un cash flow da questo investimento, se le cose continueranno come sono continuate negli ultimi 25 anni. Un piccolo appunto importante, ma che riporterò sicuramente nel video dedicato a questo nuovo investimento, i dividendi USA soffrono una fiscalità elevata, perché si applica una doppia tassazione su questo tipo di dividendi. Quella USA e poi quella italiana sul netto frontiera. Perciò da un punto di vista fiscale questo investimento è poco efficiente. Uno dei vantaggi principali però è di investire in un mercato più solido di quello italiano al momento, quello degli Stati Uniti d'America. Visto comunque l'andamento dei miei scorsi investimenti, andate a shortare l'azione. Un'azione che sicuramente avreste dovuto shortare dato il mio investimento è ENI, che a fine ottobre ha superato, anzi, è andata al di sotto della soglia dei 6 euro per azione, raggiungendo anche i 5,90 euro per azione. Già in diverse persone mi hanno scritto che porto sfiga, oppure che provano tristezza per me, per il mio investimento. State tranquilli, ci sono già io che soffro per quell'investimento. Sappiate che quando ricevo quel tipo di messaggi io rido e allo stesso momento piango. Sta di fatto che al momento il mio investimento in ENI è sotto del 37%, meno 1.900 euro. E vabbè, ne ho parlato ampiamente anche negli scorsi video, non voglio stare a ripetermi ancora. Per il resto, una soddisfazione in Gap Inc., uno dei miei investimenti che ho effettuato a febbraio, è che nel mese di ottobre è tornato in positivo. Soprattutto per il fatto che la società ha dichiarato le proprie intenzioni di spostarsi sul mercato dell'e-commerce, piuttosto che sul mercato retail fisico, con l'intenzione anche di chiudere dei vari stabilimenti fisici, da qui ai prossimi tre anni. Al momento nel mio portafoglio Gap Inc. ha un più 5%, ma ovviamente dato l'orizzonte di lungo periodo personale, ho intenzione di non valutare con molta attenzione queste variazioni di prezzo nel breve termine. Non ho ottenuto dividendi dal mio portafoglio azionario per il mese di ottobre, perciò niente cash flow positivo da questo investimento. Però dal prossimo mese dovrei comunque ottenere un dividendo mensile da Realty Income, il mio nuovo investimento. Staremo a vedere, non si ha mai la certezza al 100%. Parliamo adesso di crowdlending, perché ci sono grandi novità. Prima piattaforma di cui parlo è Cryptalia, che in questo mese ha fatto uscire diversi progetti, alcuni dei quali chiusi nel giro di 24-48 ore. Addirittura un progetto è stato chiuso in un minuto. A ottobre ho investito in 4 progetti su Cryptalia, un totale di 400€, portando il mio investimento complessivo nella piattaforma a 800€. Inoltre il primo progetto di Cryptalia si è concluso con successo. E infatti ho ricevuto, assieme all'ultima rata di interessi, anche il capitale totale di uno degli investimenti sulla piattaforma. È ancora valida fino a fine dicembre 2020 la promo Tax Back, che vi permette di ottenere un rimborso delle tasse, quindi ottenere un 26% in più sul vostro rendimento, iscrivendovi utilizzando il link che trovate in descrizione. Per quanto riguarda Suisi, non grandi novità per quanto riguarda l'investimento nella piattaforma, ma grandi novità per quanto riguarda la raccolta di capitale, il terzo round di raccolta di capitale che inizierà tra alcuni giorni. Per chi è interessato, è un'ottima opportunità per investire in una startup che ha intenzione di aumentare il proprio valore. Ed è anche interessante valutare un investimento di questo tipo per le detrazioni al 50% che sono attive su questi tipi di investimenti. Per quanto riguarda Mintos, prosegue la mia campagna di uscita da questa piattaforma. Ho prelevato altro capitale e ho raggiunto in questo momento un valore complessivo di investimento nella piattaforma pari a 550€, con 40€ circa in recovery, cioè fondi che probabilmente saranno perduti. Per quanto riguarda Bondora, ho investito sempre i miei 2000€ e non ci sono grandi novità, ottengo interessi giornalieri. Mentre per quanto riguarda Crowd Estate, ho investito altri 400€, portando il mio capitale investito a 500€. In realtà ho depositato al momento, perché ho investito solamente in 3 progetti, 100€ progetto. Ho 3 progetti attivi che in questo momento non mi hanno ancora generato cashflow, ma lo faranno nei prossimi mesi. Infine, miracolo, miracolo assoluto, ho ottenuto due bonifici da Fast Invest dopo 4 mesi di anonimato totale della piattaforma. Due bonifici dal valore di 3€ e 5€, perciò non un granché, che avevo ordinato il 10 di aprile. Sono arrivati il 28 di ottobre. Dopo oltre 6 mesi siamo riusciti a ottenere qualche fondo, finalmente. Sinceramente non so se interpretarlo come un buon segnale o un cattivo segnale. Ho ancora 100€ nella piattaforma e spero veramente di riuscire a prelevarli il prima possibile e uscire da questo investimento. Ecco quindi il cashflow che ho ottenuto nel mese di ottobre e il mio portafoglio attuale di investimento. Su Bondoro ho ottenuto 11€ e 18 centesimi di interessi, su Mintos 4€ e 33 centesimi, su Cryptalia 3€ e 48 centesimi, su Suisi 4€ e 0,01 centesimi, su Prestiamoci 4€ e 86 centesimi, su Bonser 80 centesimi, PierBerry 44 centesimi e Twin 33 centesimi. In totale quindi un cashflow per i mesi di ottobre pari a 29,43 euro, dato che non ho ottenuto dividendi. e un rendimento annualizzato per gli interessi ottenuti in questo mese pari a 5,03%. Il mio portafoglio in questo momento è composto da 1500€ dedicati al piano di accumulo azionario, 1000€ dedicati all'ETF e IVDP, 6200€ dedicati al crowd lending, 22.000€ di liquidità e 10.300€ per le azioni. Un valore totale quindi del portafoglio pari a 41.000€. Ultimo ma sinceramente per importanza il più importante investimento che ho effettuato questo mese, lo sfondo rinnovato. Come potete vedere credo che sia un upgrade importantissimo e molto efficace per migliorare quanto possano piacere i miei video. Spero veramente che piaccia anche a voi tanto uno sfondo di questo tipo. Io personalmente credo che sia un bel miglioramento. Dopo l'eccessivo ottimismo dello scorso episodio della serie, nel quale dichiaravo che questo canale avrebbe potuto raggiungere i 50.000 iscritti entro la fine dell'anno, beh, sono stato ridimensionato subito dei risultati di ottobre 2020. Comunque non ci sono dei grossi problemi dato che a ottobre ho raggiunto i 35.000 iscritti. Per me è un risultato veramente eccezionale che a inizio anno era assolutamente isperato. Ecco qui i miei investimenti per ottobre 2020. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento sotto al video e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportare il canale. Inoltre se siete nuovi sul canale iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi aggiornamenti sui miei investimenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.